Ciao, vuoi essere il più ricco del cimitero? Questo, modo di dire, diciamo, questa battuta in realtà ha un suo fondo di verità molto importante perché molte persone utilizzano i beni materiali come un fine, cioè accumularli, possederli e non come un mezzo, non come una funzione. Questo sicuramente, diciamo, può aiutare da un certo punto di vista, cioè nel senso avere una sicurezza però poi quando diventa un'ossessione, un'ossessione all'autogratificazione, all'accumulo di beni materiali allora perde il senso, perde il significato, perde la funzione e non ci permette di evolvere perché restiamo attaccati ai beni stessi e questo attaccamento ci fa soffrire intanto in questa vita perché, diciamo, ci impedisce fondamentalmente di essere sereni perché se uno è attaccato a qualcosa ha pure paura di perderle e questa paura genera sofferenza ma tra gli attaccamenti, l'attaccamento, diciamo, ai beni materiali è ciò che ci impedisce di avere una buona rinascita ci impedisce di avere una buona rinascita perché restiamo attaccati a qualcosa che non ci possiamo portare dietro fondamentalmente non prenderà atto del fatto che un appuntamento, diciamo, irrinunciabile, irrimandabile è quello con la morte prima o poi, spesso prima che poi perché se pensiamo, ad esempio, quando eravamo bambini il tempo, diciamo, ad oggi sembra passato in uno schiocco di dita e il momento della morte quindi arriverà prima che poi ci troveremo lì un giorno al cospetto con la morte e se affrontiamo male se non siamo in grado di direzionare bene i nostri pensieri in quel momento ad esempio restando attaccati alle cose materiali che non ci possiamo portare dietro è un qualcosa che di vita in vita non passa così come il nostro corpo avremo la nostra... avesseremo presi dalla paura saremo presi dallo sconforto saremo presi da una situazione negativa e quindi direzioneremo la nostra mente verso una cattiva rinascita cioè andremo a far maturare dei semi karmici negativi fondamentalmente legati alla paura legati alla sofferenza e quindi la rinascita sarà una rinascita negativa spesso addirittura in regno inferiore o comunque in situazioni di malessere e di sofferenza invece i beni materiali possono avere una funzione possono darci energia possono essere utili nella nostra vita ma anche in altre vite se li direzioniamo bene cioè se noi li utilizziamo come mezzo e li direzioniamo anche nel momento della morte in modo tale da poter aiutare gli altri ad esempio se uno investe che ne so in un ospedale per fare un esempio come testamento e lo fa col cuore lo fa con il desiderio di amore di compassione verso gli altri in questo caso il desiderio di alleviare la sofferenza degli altri questa energia che lui mette in circolo trascende la sua vita stessa continua a girare continua a produrre benefici anche quando il suo corpo fisico non esisterà più e questa energia se la porterà dietro in un'altra rinascita se la porterà dietro in un'altra esistenza e quindi sarà molto probabile che riuscirà a viversi a rinascere in modo positivo avrà direzionato la mente in modo positivo questa è la vera utilità del bene materiale del denaro di ciò che serve per vivere certo per vivere dobbiamo avere beni materiali dobbiamo avere denaro ma non deve diventare un'ossessione al possesso l'ossessione al possesso oppure l'ossessione a utilizzarlo per puro piacere personale addirittura talvolta a sprecarlo comprando delle cose magari inutili che non servono anche in questo caso non viene direzionato nel modo giusto perché siamo legati al piacere esclusivamente al piacere che questa cosa qua ci offre ma questo piacere non potrà sostenere la nostra felicità magari momentaneamente ma non potrà sostenerla a lungo e quindi ciò che non sostiene poi la felicità diventa fonte di infelicità quindi è importante imparare ad utilizzare i mezzi materiali per produrre energia positiva produrre situazioni positive in questo modo questa energia che noi mettiamo in circolo nell'universo trascenderà la nostra vita stessa e ce la porteremo di vita in vita sarà un qualcosa che ci accompagnerà ci darà sostegno ci darà forza e farà maturare eventi carnici negativi per questo video è tutto ti ricordo due cose la prima è che venerdì 3 marzo ora 20.45 a Torino terrò un corso su come fare innamorare gli altri come potenziare la propria autostima in corso 3013 presso l'educatorio della provvidenza se sei interessata o interessato il riferimento è 333 15 11 703 ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere i corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video quindi iscriviti al canale ciao